Quasi un italiano su tre in vacanza per quest'estate ha deciso di concedersi una vacanza vicino casa. Una scelta determinata anche dall'andamento dei contagi da Covid. Per Coldiretti Puglia sarà un successo per i piccoli borghi presenti in Puglia. Sentiamo il servizio di Damiana Sgaramella. Secondo un'indagine Coldiretti XE, in riferimento ai nuovi criteri di definizione del livello di rischio per la zona gialla e alle decisioni in merito all'utilizzo del Green Pass per i divertimenti, trasporti e ristoranti, quasi un italiano su tre, il 32%, in vacanza in quest'estate, ha scelto una meta vicino casa all'interno della propria regione di residenza sotto la spinta dell'incertezza sulla ripresa dei contagi Covid. Si stima che il 75% dei turisti in vacanza visiterà uno degli 85 piccoli borghi presenti in Puglia per coniugare la voglia di tranquillità con la possibilità di godere di spazi di libertà più ampi, lontano dalle città o dai luoghi turistici più affollati. La Puglia resta una delle mete più gettonate per il mare, le campagne e gli agriturismi di straordinaria bellezza, ma anche per i borghi, con il 33% tra i più belli d'Italia, dove si conservano, spiega la Coldiretti regionale, le antiche tradizioni enogastronomiche e rurali incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico, senza uguali, dove DOP, IGP e 311 prodotti pugliesi, riconosciuti tradizionali dal MIPAF, vengono coltivati, allevati e trasformati in quelli che rappresentano veri e propri presidi della biodiversità. Le realtà sotto i 5.000 abitanti rappresentano in Puglia una presenza che unisce il senso di comunità all'appartenenza geografica e la custodia di valori e tradizioni, come quella del cibo e dei prodotti tipici, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Il turismo enogastronomico è il vero traino dell'economia turistica pugliese, insiste il presidente Muraglia, caratterizzato da 5 milioni di olivi pluricentenari, 10 prodotti DOP, 29 vini DOC e 6 GP, oltre a pregevoli ma serie storiche, le più belle d'Italia, che caratterizzano la proposta agrituristica pugliese. La preoccupazione per la pandemia ha cambiato i programmi di molti italiani, con appena 1.500.000 persone che hanno deciso di trascorrere le ferie estive all'estero. La svolta patriottica per le vacanze non ha cambiato le priorità, con ben il 66% degli italiani in vacanza, che mangia principalmente in ristoranti, pizzerie, pub e agriturismi. L'alimentazione continua la Coldiretti e è diventata infatti la prima voce di spesa delle vacanze in Italia, con circa un terzo del budget di spesa turistica. La decisione sul Green Pass interessa dunque direttamente i circa 22.000 bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi in Puglia, a disposizione di cittadini e turisti, conclude Coldiretti Puglia.